In saluto dal Tg della Mobilità, proseguono tra le 7 e le 17 le potature su Via La Reggina Margherita, interessato sino al 9, poi tra l'11 e il 15 aprile, il tratto tra Piazza Buenos Aires e Via Nizza. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, confermati i provvedimenti già in vigore da qualche settimana, linea tram 3, interamente sostituita dal bus 3 nav stazione Trastevere e Valle Giulia. Linea tram 19 attiva con vetture tramviarie da Piazza dei Gerani a Porta Maggiore, sostituita da bus da Porta Maggiore a Piazza del Risorgimento. Nel quartiere africano, sino al 15 aprile, sono in programma potature in Via L'Etiopia, prevista la chiusura al traffico nel tratto compreso tra Piazza Gondar e Via Tambien. Tra le 7.30 e le 16.30 sono deviati bus delle linee 135 e 351. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.